Elezioni amministrative 2014, il Comune Regalmuto è interessato al voto Su dove è il telecom? Ti auguro a tutti un buon lavoro Da una parte un giovane L'occupazione, il lavoro Ma sulla trasparenza? Il mio paese dove io andavo sempre Se non ho il telecomando posso alzarmi e cambiare canale, no? Ma sulla trasparenza? Giovane occupazione Tutti un buon lavoro Pistoro Tazio Di fronte La calonica Ah!